Signore e signori finalmente la Val Nezdi e visto che sono fuori comune ho dovuto organizzarmi un'altra partner perché la mia moglie copre solo San Vigilio c'è ancora un bel po' di neve la Val Nezdi ha due tratti ripidi il primo davanti a noi è l'ultimo funziona ho dovuto mettere la GoPro a contatto col corpo perché non si accendeva più dal freddo che c'è ma adesso funziona di nuovo dietro di noi Sassongar Ciampacce adesso la salita è tutta all'ombra perché va al mezzodì mezzodì sarebbe mezzogiorno infatti il sole qua batte solo a mezzogiorno intanto non capisco perché le becco sempre più veloci di me ci stiamo avvicinando all'ultimo tratto della Val Nezdi il canalone dietro di noi vedete questo sperone di roccia qua in mezzo si trovano su youtube un bel po' di video come passano come lo attraversano quelli che fanno base chump e questo spero che fanno base a mezzodì e questo spero che fanno base a mezzodì noi comunque ci accontentiamo di passare mezzo alla Val Nezdi a proposito di neve guardate qua il bastoncino allora quanto polvere c'è quindi se il mio bastoncino è di un metro e venti un terzo quaranta centimetri di neve fresca stratosferico oh vorreste essere qui eh oh il sole che spettacolo yeah normalmente la Val Nezdi in giornate come questa sarebbe piena di persone quasi difficile trovare una traccia dove scendere invece oggi in questo periodo solamente perché la funivia al Pordoio è chiusa qui ci siamo solo noi ultimo tratto su per la Val Nezdi bello 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 dietro di noi quel fosco in fondo della Val Nezdi e cosa altro dire siamo fortunati siamo fortunati a a a a a a che vuoi fare? ma cosa vuoi fare? ora? che cosa vuoi fare? Sponterà Sponterà Sembra pianura, ma non lo è. Sembra. Che spettacolo. Che spettacolo. Mi piace. Adesso arriviamo al nuovo rifugio Boe. Vola! Vola! Ti sento nata a Chalurz? Alla prossima. Questa è un po' di filma. Batti c'è. Batti c'è un po' di più. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E dopo un ristoro si parte per la discesa. No. Fabolosa Grazie wow 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 A presto. wow 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 Allora, in tutto l'inverno, anche se è stato già un inviano fantastico, mai trovate condizioni di neve così, è ancora wow, e la Val Mezzidì è ancora lunga. Ah beh, non è tutto in vera, non è stai insieme dove all'inverno, non lo so, non lo so, non lo so. E io vado giù di qua. Wow. Yuhu. Wow. Ci stiamo avvicinando a quel fosfo, però abbiamo ancora un bel po' di polvere. Che spettacolo. Mamma mia. Ciao. 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 Wow. Wow. Ciao. Ciao. sagge. Grazie. Va al mezzodì polvere da in cima a in fondo. Grazie. Ed adesso l'ultimo tratto che solitamente è super ghiacciato ma oggi è polvere. Yeah! Qua alla fine si sente un po' di ghiaccio. L'ultimo pezzo. 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 L'ultimo pezzo.